Donatella Rettore, nota anche solo come Rettore, è una cantautrice e attrice italiana. In attività sin dai primi anni settanta, nota per il suo stile dissacrante e ironico, fu tra le prime artiste. Ho sempre avuto un rapporto complicato, con il successo dice Donatella non mi sono mai sentita completamente soddisfatta. Anche quando vincevo, mi sembrava che ci fosse qualcosa di più che mi sfuggiva, la sua umiltà si riflette in un commento che ha commosso molti, sono sempre stata la numero due. Raramente sono arrivata prima, ma mi sono abituata. Meglio essere seconda che ultima. Questo sentimento di non essere mai completamente al top, di non essere mai la prima scelta, a una realtà che ha accompagnato Donatella per tutta la vita, dal palco alla vita quotidiana. Nonostante la sua carriera di successo, il ritorno di Donatella alla musica è stato segnato da momenti di riflessione e cambiamento mi sono sempre sforzata di rimanere positiva, anche quando le cose non andavano come speravo, ammette. Questo spirito resiliente le ha permesso di affrontare le sfide, ma ha anche portato a una fase di introspezione profonda, anche se oggi si sente mentalmente disillusa dalla musica. Non ha mai smesso di credere nel potere della sua arte, la musica è cambiata, e io con riflette forse il mio ruolo, ora, è quello di osservare e riflettere, piuttosto che essere sempre sotto i riflettori.